ciao file not found come va oggi volevo iniziare un percorso in cpp per insegnarti a programmare in questo linguaggio nel modo secondo me più divertente possibile lo scopo è quello di riuscire a padroneggiare i costrutti del linguaggio quelli fondamentali almeno e se sei uno studente avere tutte quelle competenze che ti consentiranno poi di affrontare i compiti in classe in modo tranquillo se sei un curioso se un programmatore che vuole vedere cpp questo è veramente l'inizio l'assaggio obiezioni sicuramente da qualche di qualche programmatore cpp diciamo che utilizza gli oggetti è il fatto che utilizzerò meno possibili oggetti anzi anzi probabilmente non utilizzerò nemmeno in questa prima parte lo scopo è quello che è quello di quello che è è quello di rispettare quello che sono più o meno gli standard tra virgolette si esistono degli standard utilizzati a scuola lo so fa schifo eppure a scuola viene insegnato così cioè l'idea di insegnare il cpp come un c con c in e c out e poco altro purtroppo è troppo diffusa e questa cosa fa veramente schifo cari docenti mi spiace cosa farò in realtà inizieremo vedendo tutte le caratteristiche del cpp tranne gli oggetti quindi cercheremo di starne fuori poi faremo le strutture scoprire scopriremo che sono classi ma facciamo finta di niente iniziamo da un file vuoto il classico allo world quindi uno inizia questo è visual studio 2019 community edition potete scaricarlo gratuitamente non costa niente allora ho creato un progetto nuovo e anzi vi faccio vedere addirittura ma creare un progetto nuovo facciamo così file nuovo nuovo progetto lo chiamo dangon e si no aspettate questo non è il nome del progetto ma è applicazione desktop di windows applicazione vedete che c'è un sacco di di cosa mi serve un'applicazione console se scendete c'è anche progetto console da qualche parte quale ce l'ho già già utilizzato di recente quindi usiamo questo e lo chiamo dangon ok adesso creo mi dice crea il mio progetto e possiamo iniziare a lavorare perfetto questo è il nostro allo world posso eseguire col debugger e lui stampa allo world perfetto premo un tasto e si chiude la finestra ok ci dà un po di suggerimenti qua nel nel codice contro f5 per fare il debug no per avviare senza debug scusatemi mentre per fare il debug f5 va bene e cos'è il debug il debug è un'operazione fondamentale fondamentale che ci consente di eseguire il nostro programma passo passo vi faccio vedere subito un esempio stdc out cosa fa questo stdc out cerchiamo di capire di leggere un pochino adesso questo allo world allora in questa prima riga dove c'è questo cancelletto include io ho detto al compilatore cpp di includere le definizioni delle funzioni contenute nella libreria che si chiama io stream quella che si occupa di fare input out tutte queste funzioni stanno dentro un coso un contenitore che si chiama in space lo spazio di nomi che nel nostro caso std quindi scrivendo poi std 2 punti 2 punti c out cosa sto dicendo sto dicendo caro compilatore dentro il nome di spazi degli allo spazio di nomi standard std recupera l'oggetto c out è un oggetto c e passagli questo un operatore questo doppio doppio minore questa stringa c out il common output lo standard output è il nostro monitor nostra la nostra console vuol dire questa questa stringa di carattere viene passata alla console vabbè poco male io potrei adesso fare una seconda riga allo stesso modo esattamente come quella sopra tutto dentro sta dentro la funzione main perché questa funzione vede che ha un tipo di dati che ritorna quindi dovrei ritornare qualcosa di solito si ritorna a zero quando i programmi vanno a buon fine il nome main è fisso per forza e poi aperti chiuse tonde perché non ha parametri non devo passare le informazioni vedremo come fare a passare informazioni e altro più avanti per adesso non ci interessa poi c'è la graffa aperta e la graffa chiusa la graffa aperta e la graffa chiusa individuano in c++ e anche c l'inizio e la fine di un blocco quindi quello è il corpo da qua a qua è il corpo della funzione main la funzione main nessuno la utilizza è il compilatore che quando crea l'eseguibile va a cercare la funzione main ed esegue quello lo fa in automatico noi non dobbiamo dirgli nulla se infatti vado a eseguire col debugger vede che stampa hello world va a capo perché c'è quel backslash n che indica vai a capo e poi c'è seconda riga e anche lui va a capo infatti c'è una riga vuoto dopo questo è il mio programma tutto se io vado adesso qui io posso cliccare col tasto destro c'è un punto di interruzione da poter impostare e inserisci punto di interruzione potevo anche inserire direttamente cliccando col tasto sinistro nella riga che voi dove voglio fermarli io riavvio il debugger con debugger windows locale vede che si è fermato l'esecuzione adesso si è fermata proprio qua questa freccina mi dice dove sono a questo punto io posso decidere di andare avanti vede qua c'è esegui istruzione quindi all'interno vai avanti sull'istruzione successiva esegui istruzione la routine quindi se c'è una chiamata con il nostro caso c'è questo operatore richiamato viene eseguita oppure esci da dove siete della funzione dove si trova noi non vogliamo uscire da main qua c'è il tasto lf10 che prima f10 va alla riga dopo questo vuol dire che io posso costantemente controllare l'esecuzione del mio programma per vedere ad esempio vedremo il concetto di variabile vedere le variabili quanto valgono vedere se le istruzioni vengono eseguite nel nella sequenza che avevo immaginato magari c'è un errore nel mio algoritmo e non viene eseguito correttamente il debugger sarà il nostro amico lo utilizzeremo un sacco di volte è veramente fondamentale imparare utilizzare il debugger perché con il debugger possiamo controllare l'esecuzione del programma passo passo quindi non fate quelli che non lo usano o quelli che riempiono di cout dappertutto prima nota spesso nei libri si trova scritto questo adesso io stoppo qua con arresta debug e tolgo anche il punto di breakpoint trovate scritto soltanto così cout e basta in questo caso cout e basta c'è perché sopra qua nella parte esterna le funzioni viene scritto using namespace std ci sta dicendo sostanzialmente al compilatore guarda io quando uso le funglie oggetti di std non voglio mettere std due punti due punti questo bisogna farlo con attenzione ovviamente perché potrebbe essere che il mio programma ridefinisca qualcosa che c'è già all'interno di std e allora devo stare abbastanza attento nel nostro caso possiamo farlo infatti se eseguo non cambia nulla stampa sempre i miei due le mie due righe sono a posto quello che noi adesso dovremmo andare a fare sarà di ad esempio salvare in una variabile e ragioniamo su cosa è una variabile il carattere che rappresenterà poi il nostro il nostro personaggio principale cioè questa idea che il nostro eroe ok ha un una rappresentazione che tecnicamente si chiama glifo carattere che lo rappresenterà poi sulla mappa che andremo a disegnare una variabile dovete immaginarla come un contenitore con un etichetta l'etichetta è il nome che quindi diamo la variabile il nostro programma quando noi andiamo a recuperare l'etichetta stiamo andando a dire al compilatore qui metti il valore della variabile ok ogni ogni variabile in cpp ha un tipo dovremo dichiararlo quando andiamo a definirla la definizione la possiamo fare ovunque all'interno del nostro codice dobbiamo sempre ricordarci che se la definiamo fuori dalle funzioni è accessibile ovunque e tutti la possono modificare se la definiamo all'interno di una funzione in questo caso all'interno del main sarà accessibile soltanto all'interno del main a meno di non passarla ad altre funzioni ma questo lo vedremo più avanti l'idea è questa io definisco una variabile di tipo carattere perché è solo un carattere il nostro protagonista è il nostro hero underscore glyph questo è uguale a la chiocciola classico carattere del nostro personaggio allora il nostro eroe adesso facciamo stampare il nostro eroe eroe e li facciamo mettere adesso posso in questo caso concatenarli quindi metto ancora l'operatore metto hieroglyph e qua posso mettere un altro testo saranno concatenati uno con l'altro ti saluta backslash n seconda riga fine the end ok abbiamo fatto questo abbiamo dichiarato una variabile posto abbiamo stampato sullo standard auto quindi a console una stringa questo è il nostro eroe poi seguita da accodata hieroglyph il contenuto di hieroglyph cioè la chiocciola e poi abbiamo ristampato ti saluta proviamo a far andare il debugger vedete il nostro eroe chiocciola ti saluta eccolo qua ok abbiamo visto quindi come fare a dichiarare una variabile qua riga 10 abbiamo visto come fare a prendere la variabile e utilizzarla in questo caso in una stampa e abbiamo visto come fare a stampare più oggetti in questo caso una stringa, un carattere e ancora una stringa a standard output quindi sulla nostra console va bene questa è la fine per questo episodio nel prossimo andremo a vedere come fare a disegnare la nostra mappa e come fare a spostare il nostro eroe nei prossimi episodi sarà questa la prima cosa di cui ci occuperemo spero che questa serie possa interessarti, possa incuriosirti se hai delle domande, delle curiosità non esitare a scrivere e se ti piacciono i miei video iscriviti al canale farebbe molto piacere e condividilo sui social con questo è tutto ti ringrazio per l'attenzione e alla prossima ciao 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 ciao